Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, la prima considerazione che voglio fare oggi è la seguente. Meno male, meno male che alla fine è rimasto Dusan Blauvic e non è arrivato Romelu Lukaku. Meno male, perché sto iniziando a leggere tanti tifosi della Roma che non sono per niente soddisfatti per usare un eufemismo del rendimento dell'attaccante belga. Per me era un'operazione folle anche sul lungo, diciamo che anche sul corto, nell'immediato, alla fine sembra essere stata un'operazione che ha dato ragione alla Juventus che ha trattenuto Blauvic. Non so quanto per bravura e quanto per fortuna, perché secondo me la Juventus se avesse trovato l'occasione di cedere a Blauvic lo avrebbe poi effettivamente fatto. È andata così, è stata una sliding door della Madonna e credo che alla fine sia andata bene alla Juve. Poi Blauvic può essere valorizzato alla Juve, può essere bocciato dalla Juve, può essere ceduto per una cifra maggiore rispetto a quella che avrebbe poi generato l'accessione eventuale di un Lukaku? Secondo me sì, quindi non significa che Blauvic sarà un punto fermo della Juve, anche se oggi immaginandoci la Juve del futuro, se ragioniamo su un maxi sacrificio forse è più il nome di Chiesa che corrisponde al sacrificato. Però vedremo perché comunque le voci sul rinnovo di Chiesa vanno e vengono, non è una cosa sicura la partenza di Federico Chiesa, però bisognerà anche ragionare sulle Juve del futuro perché Blauvic avrà un ingaggio molto elevato. Ma ad oggi, io lo dico con grande tranquillità e serenità, meno male, meno male che alla fine Dusan Blauvic è rimasto alla Juventus e non è arrivato Romelu Lukaku. Questa è una mia piccola grande rivincita, perdonatemi, ma nei momenti in cui Blauvic non stava facendo bene, Lukaku aveva iniziato invece a segnare con la Roma, mi sono ritrovato sommerso di commenti che mi dicevano ma come vedi alla fine se fosse arrivato Lukaku? Io credo che già sul lungo sarebbe stato disastroso, anche sul breve alla fine forse è andata meglio così. Però voglio parlare di futuro in generale, poi domani inizieremo a ragionare su quella che sarà la partita perché domenica si gioca con il Frosinone alle 12.30 in casa, quindi domani ci sarà la conferenza stampa, ma oggi è una giornata un po' ibrida e vi dico la verità, arrivati a questo punto della stagione dove la massima ambizione della Juventus può essere entrare nelle prime quattro e vincerla a Coppa Italia io non posso fare altro che pensare alla prossima stagione. È ovvio che la priorità dei calciatori, dell'allenatore, Frosinone, però il tifoso secondo me può anche iniziare un po' a viaggiare a volare con la fantasia. Poi è ovvio che non sono le domande da fare in conferenza stampa ad Allegri domani, domani bisogna parlare soltanto di Juventus Frosinone, di quelle che sono le modifiche, di quelle che sono gli esperimenti se la Juve davvero scendere in campo col 4-3-3 oppure no. Però perché questa settimana diventa interessante? Soprattutto per parlare di allenatori, perché il Bayern Monaco ha deciso che Tuchel non sarà più l'allenatore della prima squadra a partire da giugno e voi direte e quindi che cosa ce ne frega, cosa azzecca con la Juventus questa cosa in una situazione di questo tipo? In realtà c'entra, e non poco, e fa il paio con il fatto che Jurgen Klopp non allenerà più il Liverpool, col fatto che Pep Guardiola non allenerà più il Manchester City, col fatto che Xavi non allenerà più il Barcellona, col fatto che De Rossi alla Roma potrebbe essere confermato così come no, col fatto che Calzone è stato inserito al Napoli semplicemente per arrivare a fine stagione, con il fatto che Pioli al Milan è sempre un argomento scottante e potrebbe poi esserci una separazione al termine della stagione. Il Valster delle panchine. Ne abbiamo parlato l'altro giorno in live, abbiamo fatto un piccolo estratto di questa roba, però volevo cercare di approfondire il discorso soprattutto focalizzandomi sul Bayern, da lì siamo partiti e lì andremo a parare, perché c'è un nome relativo al Bayern di Monaco per il Doppotuchel che è importante, perché la Bild tedesca in settimana ha parlato di Antonio Conte vicino al Bayern Monaco, Conte avrebbe scelto il Bayern, diceva la Bild, poi è ovvio che non è l'allenatore che sceglie la squadra, ma è la squadra che sceglie l'allenatore, quindi questo è un discorso che fa un po' d'acqua, però poi se dopo qualche ora, qualche giorno, alla fine è proprio la società che in maniera ufficiale annuncia guardate al termine della stagione cambieremo allenatore, il nome di Antonio Conte diventa per forza di cose un nome da tenere monitorato. Io dico così perché se ve lo chiedete anche in questo momento, al 23 di febbraio, vi dico che per me Conte farebbe carte false per tornare alla Juventus, poi bisogna vedere se la Juventus è interessata eventualmente intanto a cambiare allenatore e nel caso di cambio allenatore ad andare sulla figura di Conte. Mi rinfresco la memoria sulla mia posizione su Antonio Conte, credo che sia esattamente la tipologia di allenatore che serve alla Juventus in questo momento, perché Conte ti costruisce e è in fretta, però credo che sia sbagliato il nome di Conte principalmente per un motivo, perché Conte non è più il Conte di quando arriva la Juventus nel 2011, oggi è un allenatore con uno status, un palmarès differente e ha delle pretese economiche differenti mica solo dal punto di vista dell'ingaggio, dove magari lì per amore, anche se io ci credo sempre poco, sono professionisti, potrebbe chiedere di meno, ripeto, ci credo poco, però dal punto di vista della costruzione della squadra lì non fa sconti, ti dice voglio tizio, ok, ho sempre ogni pierino e se non una tizio, ok, ho sempre ogni pierino, Conte è difficile da accontentare ed è difficile da contenere anche a mezzo stampa, quindi se dal punto di vista di quello che sa fare, quindi costruire Conte è la natura ideale, dal punto di vista degli investimenti e anche della personalità di Conte io ci penserei non una ma due volte anche, poi sono convinto che Conte si sia pentito di quell'estate 2014, abbia la volontà di tornare alla Juve, l'altro giorno ha parlato di desiderio di vincerla Champions, la Juventus lo sappiamo che desiderio già, vincerla insieme sarebbe clamoroso come è successo già nel 96, poi sia la Juve che Conte, Juve come squadra e Conte come allenatore DNA europeo, poca roba, perché Conte in Europa ha sempre fatto molta fatica, vediamo se sarà il nome scelto da Bayer Monaco oppure no, dico così perché nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Xabi Alonso, che è un giocatore, anzi un allenatore ormai, perché il giocatore lo verrà ai miei tempi quando ero giovane, è un allenatore che sta facendo benissimo col Bayer Leverkusen, non bene, benissimissimissimissimo, a tal punto che la Bundesliga sembra in serio dubbio per il Bayer Monaco, e quindi ecco che potrebbe essere lui il sostituto proprio di Tuchel sulla panchina dei tedeschi. Che cosa succede? Tanto Xabi Alonso ha giocato in tre squadre, principalmente in Europa, uno è il Bayer Monaco, proprio l'altro è il Liverpool, la terza è il Real Madrid e la lasciamo un attimo da parte perché lì c'è Ancelotti. Però Liverpool e Bayer Monaco sono due squadre che cambieranno allenatore, Xabi Alonso ha giocato in tutti e due, conosce l'ambiente e quindi semplicemente potrebbe essere il candidato perfetto perché in questa stagione sta facendo benissimo. E quindi, dato che sembra che il Bayer sia comunque orientato davvero verso la scelta che porta a Xabi Alonso, bisogna ragionare poi sulle maxi panchine come Manchester City, come Liverpool, insomma, della Premier League. Boh, lì i nomi che si fanno sono sempre quelli, c'è l'esordiente De Zerbi, esordiente, ormai è da anni che fa parlare di sé, esordiente sarebbe per una panchina di alto livello, De Zerbi in Premier League è consideratissimo, lo considerano davvero il migliore dopo Guardiola, quindi non mi stupirebbe di vedere De Zerbi su una grande, grandissima panchina inglese nella prossima stagione. Però bisogna fare questi ragionamenti perché poi magari qualcuno rimane fuori. E allora, in questo momento liberi ci sono Zidane e Conte, che sono nomi che sprizzano di juventinità per quella che è stata la storia. C'è Igor Tudor, che secondo me era stato svincolato dal Marseille l'anno scorso perché si era un po' fatto il conto, il ragionamento, eventualmente se salta Allegri bisogna avere Tudor pronto, Tudor poi è rimasto fermo, l'ha cercato il Napoli, non è andato al Napoli, lo richiamerà il Napoli, boh, lui non voleva sei mesi. Però vedete come tutti questi incastri poi devono andare a creare questo vero e proprio effetto domino? Perché in questa stagione cambieranno tantissime panchine. E poi ci sono quegli allenatori che in Italia stanno facendo bene. Alcuni bene, alcuni benino, altri ottimamente. Parto da Palladino, che è quello che mi piace di meno e lo sapete, non sarei felice del nome di Palladino lato Juve. Per quanto stia facendo bene con il Monza, secondo me, ancora tanto, tanto, tanto per arrivare a una squadra come la Juventus. Miei personalissimi duecentesimi. A me l'italiano piace tanto. Quest'anno sta trovando dei limiti, sta trovando delle difficoltà e si sta scontrando con quelli che sono tanti i suoi concetti chiave. Fa fatica molto a segnare. Poi il fatto che la Fiorentina negli anni non abbia sempre avuto fior fior di attaccanti, beh questo è un altro dato di fatto. Però l'italiano ragiona molto col cross. E quando viene a mancare quella roba lì, si fa fatica a segnare. Poi per me l'italiano rimane un ottimo allenatore. Non so se in questo momento è pronto per la Juve, però teniamolo lì, vediamo. Secondo me può essere pronto per una grande piazza. Poi non so per la Juve. E adesso vi spiego anche il perché. Perché è l'ultimo nome che rimane da affrontare, analizzare, quello relativo a Tiago Motta. E vi dico che insieme a Conte, io Allegri non lo posso escludere perché Allegri è ancora allenatore della Juventus, ha un altro anno di contratto e le voci sul rinnovo ci sono. Quindi finché non c'è ufficialmente la voce che Allegri non rinnoverà e salterà, io Allegri ottengo nei tre. Quindi per me i tre allenatori potenziali per l'anno prossimo sono Allegri, ed è un discorso legato a tutto quello che è, Conte, perché c'è Conte che sta spingendo e non poco, e Tiago Motta, che secondo me è quello che invece nella testa della Juventus è il prototipo di allenatore ideale. Perché mi piacerebbe Tiago Motta? Perché Colbovina sta facendo miracoli, perché con lo Spezia ha fatto una salvezza miracolosa, perché ha dei principi di gioco interessanti, perché sta raccogliendo risultati, perché sta raccogliendo consensi, perché da calciatore ha vinto tanto, è sempre stato un giocatore di personalità da quel punto di vista e di carisma, e soprattutto perché ha una fase difensiva di livello. Sa che cosa deve fare, sa che cosa vuol fare, ma non è il prototipo di allenatore alla Zeman. Dico Zeman perché intanto si è dimesso dal Pescara perché ci sono dei problemi di salute, ma perché l'altro giorno mi è capitato di leggere su X che Tiago Motta piace a un certo tipo di tifosi che adorano Zeman perché fanno lo stesso gioco. No ragazzi, è proprio la cosa più lontana del mondo da Zeman, perché Tiago Motta cura tantissimo la fase difensiva, tant'è che il Bologna, se andate a vedervi un po' i dati del Bologna, in questo momento la Juventus ha segnato un gol in più del Bologna e credo che ne abbia subiti 5 in meno. I numeri dovrebbero essere quelli lì, con la rosa del Bologna e la rosa della Juventus, con le pressioni del Bologna e le pressioni della Juventus. E' proprio sulle pressioni voglio andare perché poi ci sono un paio di cose, ma sono veramente un paio di cose che non mi convenga di Tiago Motta. Vi dico quella più da tifoso, è un simbolo dell'Inter. Io questo non posso non dirvelo, ve lo devo dire. Poi arriva Tiago Motta, vince uno Scudetto, vince una Coppa Italia, vince una Champions, un Europa League, non lo so cosa potrà vincere, per me si cancella tutto, che non è quello, come abbiamo accolto Sarri, come abbiamo sostenuto Sarri. Nel caso farò lo stesso con Tiago Motta, non c'è problema. Però è un simbolo dell'Inter e del triplete e tra i tanti giocatori dell'Inter e del triplete ce n'erano alcuni che mi stavano anche realmente simpatici, lo dico da tifoso juventino. Per Milito Stravedevo, giocatore clamoroso, giocatore veramente assurdo. Per l'abnegazione di Eto' c'erano delle cose, ma Icon mi è sempre piaciuto tantissimo come giocatore. Tiago Motta è sempre stato uno di quelli che mi stava qua e non mi stava giù, sia con l'Inter sia con l'Italia. Non mi è mai andato giù e probabilmente con l'Italia per riflesso di quello che è stato con l'Inter. Mettiamo da parte questa spiegazione che è una spiegazione così ccc e passiamo invece al lato più profondo dell'analisi, perché Tiago Motta, ripeto, ha tutte le caratteristiche. Valorizzatore, nuova generazione, costruttore e soprattutto la fase difensiva. Ed è uno che ha un ingaggio di basso livello e non è una cosa da dimenticare perché se la Juve quest'anno cambia allenatore o dà una buona uscita ad Allegri, e quindi paga, o paga il contratto ad Allegri per star fermo. Quindi avere un ingaggio ridotto per me è uno dei valori principali in assoluto, in assoluto da tenere in considerazione per il prossimo allenatore della Juve. Perché non puoi prendere Conte e dargli 7 milioni se ne stai già pagando 7 ad Allegri e puoi fare anche mercato. Cioè per me questo è fantacalcio in questo momento, vi dico la verità. A meno che non si allegri a dimettersi. Lo farà? Boh. Io sono convinto che Conte sia lì fuori dalla Continassa a bussare e dire, ciao sono qui, sono qui, mi vedete? Mi volete? Sono qui, io vorrei tornare, eccomi, eccomi. Su questo secondo me non ci sono dubbi e anche il fatto che per i cento anni di Agnelli ci fosse Conte con la maglia della Juve. Ecco, quelle robe lì mi hanno portato a quel pensiero lì. Però Tiago Motta, che non avrà un ingaggio elevatissimo, potrebbe essere appunto un nome. Poi Tiago Motta potrebbe interessare all'estero? Per me sì. Barcellona, dove è stato formato a livello professionale, ma anche PSG dove ha già giocato. In Italia io metto anche il Milan, perché è una squadra, il Milan dove Tiago Motta ha un supporter fortissimo che è Ibrahimovic, che ha conosciuto al PSG, sono molto amici, sono molto legati, e dato che il Milan probabilmente cambierà, poi magari uscirà anche Inzaghi dall'Inter, che ne so, una big europea, il Liverpool City, ne parlavamo prima, si liberano dei posti. Inzaghi può essere pronto per livello da big? Per me sì in questo momento. Quindi magari va via e Tiago Motta e Inter diventa immediato da fare. Io credo che non ci sia ancora una decisione ufficiale di Tiago Motta nella testa di Tiago Motta, di quelle che si tiene dentro lui e non ripete a voce alta. No, lui vuole finire la stagione con il Bologna e vedere le opzioni, le offerte che arriveranno. La Juve secondo me è un'opzione, ve lo dico. La cosa che mi convince di meno di Tiago Motta è la seguente. Io non ho idea di come reagirà dal punto di vista dei risultati, perché alla Juve bisogna vincere. Io qui sotto ho una maglia. Guardate, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Io c'ho questa maglia sotto addosso, me l'ha regalata mio padre per i miei 30 anni. Quindi è un concetto che non può passare in secondo piano. Una delle più grandi critiche da muovere alla Ligribis è che non si è vinto. Si vincerà una Coppa Italia, ma una Coppa Italia in tre anni è troppo poco. È troppo poco per la Juventus. Quindi Tiago Motta, che è bravissimo a creare valore, è bravissimo a costruire anche delle trame di gioco interessanti, è bravissimo a subire pochi gol, sarà bravo anche a vincere da allenatore, perché un Conte da giocatore è un Conte da allenatore. Poi questo non lo possiamo sapere. Conte, che arriva alla Juventus dopo Del Neri, non aveva mai vinto. Allegri, che arriva al Milan dopo il Cagliari, non aveva mai vinto. Lippi, che arriva alla Juventus, non aveva mai vinto. Ce ne sono di esempi un milione di esempi. Quindi anche Tiago Motta, che arriva alla Juventus, non ha mai vinto. Però trovare un allenatore con Palmares, stipendio basso, e che ti crea valore al 100%, secondo me in questo momento non è difficile, è impossibile. Almeno non mi vengono in mente i nomi. Zidane. Zidane l'hai visto a Real Madrid? Solo a Real Madrid? Fuori da Real Madrid com'è? Boh, punto di domanda. Non lo possiamo sapere. Quindi secondo me al giorno d'oggi non esiste un allenatore che ti dà la certezza di essere un vincente, perché il Palmares parla chiaro, che ti crea valore e che ti prende pochi soldi. A me non c'è. Quindi la Juve se vuole andare sul nome di quelli emergenti, Tiago Motta, Palladino, Tudor, Italiano. Sono quelli lì, eh. Ce ne sono tanti altri legati alla Serie A. Poi se andiamo all'estero ce ne sono un milione. Xabi Alonso, De Zerbi, ma sono già orientati verso altri club. Molto più importanti in questo momento della Juventus, dal punto di vista dell'appeal e dal punto di vista economico. Quindi io vi dico, Tiago Motta per me è un sì. Poi non è un grande sì. Per una ragione un po' più di cuore di pancia che quello di essere legato all'Inter, ma quello ce lo facciamo scivolare via nel caso. Anche Trappattoni, l'altro giorno mi dicevano, ha giocato nel Milone. Poi è verissimo. E dall'altra parte invece è quello che potrebbe essere il rapporto con le vittorie. Perché siamo al terzo anno, no? Di Allegribis. Non abbiamo costruito granché dal punto di vista della continuità. Ogni anno è un reset, è un nuovo gioco. Ogni anno c'è qualcosa di differente che non va ad appoggiarsi a delle radici dal punto di vista tattico. Ogni volta la tattica è sempre quella. È la priorità di non prendere gol, è la mischia per fare il gol. Cioè, gli ultimi tre anni sono state sta roba qua. E sinceramente anche basta. Non ci si può sempre aggrappare all'atteggiamento, alla voglia, alla grenta. Bisogna anche metterci dell'altro. E Tiago Motta sicuramente dell'altro ce lo metterebbe. E arriverebbe a costruire qualcosa in tempi più brevi. Poi però la domanda è sempre quella. Sarebbe in grado di vincere? Non lo so. Non lo so. Però ripeto, si scontra questa cosa con la logica del farmi dire sì, però meglio di Tiago Motta, che ha anche già vinto e che prende poco, chi c'è? E non riesco a trovare un nome. Davvero non mi viene in mente nessun tipo di nome che vada a rispondere a queste tre esigenze. Che crei valore, che possa prendere poco e che abbia già vinto. Non mi viene in mente nessuno. E quindi, sostanzialmente penso, ma se all'estero sono pronti ad affidare delle panchine importanti a De Zerbi, Xabi Alonso e questi allenatori che stanno facendo benissimo, poi il punto è che non hanno mai vinto. E gli affinano delle panchine che scottano, perché scotteranno, che sia City, Liverpool, Bayern, Monaco. Scotteranno. Scotteranno tantissimo. Perché non lo possiamo fare anche noi alla Juventus all'interno di un campionato di minor livello rispetto alla Premier League, dove non c'è in questo momento la pressione di vincere la Champions, ma dove, con questa rosa, anche all'interno di un contesto tattico così scarso come di quelli di questi tre anni, si è sempre arrivati nelle prime quattro posizioni e quest'anno addirittura, fino a un certo punto del campionato, ci si è giocati un testa con quest'inter qui, allora significa che probabilmente inserendo anche un contesto differente si potrebbe anche fare meglio. Poi, nell'immediato, SNI, nel senso l'Alegribis è formato da tre anni. Io, al termine del primo anno dell'Alegribis, ho detto non si è vinto niente, d'accordo, però voglio dare un'altra possibilità, perché c'è la continuità. Quindi, siccome almeno un anno, se non un anno e mezzo, qualsiasi allenatore sarà. Il prossimo della Juventus va dato, perché poi bisogna raccogliere i risultati. A maggior ragione se è qualcuno che vuole costruire qualcosa attraverso un sistema differente rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi tre anni, perché ci vuole più tempo nel costruire delle trame di questo tipo. Tiago Motta, potrebbe essere l'uomo giusto? Io più ci penso e più vi dico che, sinceramente, non mi viene in mente un nome migliore. Sono convinto al 100%? No, però sono dei miei limiti, dei miei preconcetti, devo iniziare anche a superare, a maggior ragione per quella che è la situazione attuale della Juventus. Ma voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Abbiamo discusso di tante cose. Fatemi sapere il vostro nome dell'allenatore ideale e se secondo voi Tiago Motta può essere quello giusto. Ciao!